Di sicuro mi hanno buttato fuori dall'1%. Posso avviare? Posso avviare Shai? È morto. Vabbè, avvia. Ah, c'ha il mic, ok. Understandable. Il tempo è rimasto tre giorni. Se sbrigassero a passare sti cazzo di tre giorni. 11.129. 1, 1, 1, 2. 194.000, facciamo diviso 10. C'è sto ancora dentro, perfetto. Very good. Brrr. 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 Ok, insieme. Oh, lol. Iniziamo bene, vi dico. Yoi. Un po' di direzione sbagliata. Boh, questo che si sta sti cazzo. Shari, poi un giorno abbiamo sbustato il cazzo che ti ho fatto. Ah, io ti ho aspettato da voi. No, per me potete andare. Io poi lo farò quando ce lo sbatti, assolutamente. Tanto sono a 30.000 trofei dal platino, quindi... No, 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 no. Tre. Porco di... Guarda, è un bustone, madonna. Da me ha semi laggato e quindi puoi immaginare. E questo è il bustone pure da me. Dabada! 75.337 punti. Madonna di dio caaaah. Mi tocca rifare tutto da capo. clip video proprio e mentre questo carico no la faccia mia non c'è stato grazie 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 same grazie L'olcer è morto. O è morta la lobby? Devo reimpostare tutto. Oddio buono. L'olcer è morto. 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 comunque è scandaloso che non vogliono uscire soldi per pubblicare patch veramente vabbè tanto alla fine allora cosa importano allora non importa beh alla fine hanno provato a fare colpo di fulmine è più uscito fuori questo quindi ma colpo di fulmine è stata corretta prima poi c'è stato un momento di calma e poi è successo questo esatto è uscito una sfida dove c'è scritto character name b e character name c bello cosa è bello bello Grazie a tutti. Minchia se ti ho visto male. Ma dai, ma dai, ma ero davanti, madonna. Vabbè, stavolta no. De poco. Siamo al 24 e ancora non c'è uno straccio di screenshot per la pista di Spyro. A me dà fastidio sta cosa. Ma tanto tra la fine di sto GP e l'inizio dell'altro passano tranquillamente, ma se più di una settimana ci basta. Non è male anche per farmi idea su che cosa era basato il livello. Per capire. Ora ci mettiamo a farmare. Tutti e tre i giorni, il weekend. Questo, più che la prossima settimana, a quanto può arrivare? Almeno a 80-90 mila che ci arriva. Sono 15 mila a botta. Quindi... Eh, sì. 90 mila. 90 mila, sì. Il tipo dei casi, quindi. Io arriverò a 350 mila. Madonna. Il definito il supporto, come si rogge. Esatto. Cioè, come i carri non ci porti sto gioco perché hai ancora degli avanzi. Esatto. Roba che potrei, tipo, calcolare il prezzo delle MTX, dico, vendo account per, tipo, 3000 euro. E poi dico, se loro possono farlo, perché non posso farlo io? Eh. Stronzi. Però, meglio così. Meno male che c'è sto sistema qui. Alla fine verrà pacciato, ma sti cazzi, no? No, lo stiamo sfruttando a dovere. Anyway. Beh, se si può dire che l'hai sfruttato. Ah, voglia. 100 mila. Eh, sì. Tutto merda del doppio farming. Tututututututututututu. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut non è buono esatto non è buono non è buono non è buono non è buono ho fatto lo snipe praticamente mi ha fatto il discorso secondo cui l'ho mancata però il server ha detto no lo fa spesso è buono di sniperino Komodo Kahn Lè, la storia è meritatissima Eh, deserved Quante azione mancano per più con la skin? Ne hai vinte tre, quindi Credo, eh Tre? No Beh Te ne mancheranno cinque Perché ne hai vinte tre O cinque o quattro E un po' Tre? Tre te ne mancano? Ok Allora c'è ragione Po 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 Buon colletto che sta crashando molto il gioco ultimamente Ovviamente Mobinox ne fa sti lavori Stava facendo una banalissima ricerca di matchmaking online Frizza tutto, rientra, dati corretti Magnifico, guarda meno male che li sto ancora backupando E anche meno male che le monete stanno nel server Direzione sbagliata Direzione sbagliata Ah Molto rischi Eh vaffanculo al muro di merda Ma il problema è che secondo me il gioco è fondamentalmente rotto Quello è il problema E' nato con i problemi di fondo proprio No ha messo, ho fatto U-turn selvaggio Ma non mi ha contato il cavolo di superderapata lì Vabbè lo riprovo in questo Ma non mi ha avuto Ma non mi ha caso Non mi ha avuto E' nato con i problemi di piper Non mi ha avuto Ma non mi ha avuto E' nato con i problemi di fantastica e pepe pepe un poco modo c'è px drive px tripelli potorotti un axel big axel axeleration ecco xyre non l'ho mai usato manca una volta maronna, grande considerazione devo dire che è successo? ha finito il blue fire a cazzo di cane che ce l'aveva ancora bello pronto grande grande classico di sto gioco praticamente manca dire che non avevo riservo ho fatto le stesse cose che facevo le altre volte i muri invisibili proprio direzione sbagliata direzione sbagliata direzione sbagliata potenzia quel turbo ma anche no l'altro giorno ho detto ma proviamo a rigiocare un po' al ctr originale non l'avessi mai fatto andavo talmente facevo talmente schifo che ho riprodurato il gameplay di un indietro chiudi un altro po' si e beh con tutto quello che gli si vuole dire male a questa versione del gioco alla fine ci hanno azzeccato su qualcosa ma che mi fa di provare andare con le freccette le prendere in ctr originale con le freccette è stato un inferno ma non mi riesco a battere l'oxido per dirti ah probabilmente fare la stessa fine anch'io se provassi direzione sbagliata 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 Ah, ho sbagliato Ahia Molto effo Belli gli ultimi due giri identici Magnifico Vabbè mentre tu sei alle prezze con il respawni arrivo subito Ah, ho perso un po' di tempo Oh, ho perso un po' di tempo Alto là Oh, ho perso un po' di tempo 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 eccomi qua come male ma come ti permetti vedevo che è tornato mister gab oddio sta voce pure la conosco sta voce pure la conosco che come cazzo si chiama è quello che fa le story time dei gran premi può essere a questo punto c'è solo una spiegazione shari mia che era dai consigliati di youtube e raps direzione sbagliata direzione sbagliata due 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 parà 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 ma che cazzo cos'era quella cosa cioè ti ha fatto è che è stato lo spigolo a fare lo schifo se no l'ho fatto contro il mezzo bello magnifico tipo così dai me l'hai sbloccata dai me l'hai sbloccata comodo gioio verde comodo gioio 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 perché devo sentire certe cose mentre vabbè perché tu non conosci CS188 mi sa chi cazzo è youtube poop vecchia scuola proprio capolavori CS188 oh cazzarola vabbè ok è rimasto ok è rimasto madonna ma c'è stato il rage quittone io ho fatto l'impulso io ho fatto l'impulso b briting allora una volta su the phantom pain sempre mi era capitato che sai che può distruggere tipo le 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 torrette di guardia no mh è capitato che si è distrutta ma il nemico è rimasto fermo a mezz'anni peccato che la clip si è persa perché ai tempi non è una disc esterno però perché sai l'avevo caricato su un certo account che è morto però vabbè ah si quello di che è morto nel 2016 eh vabbè giustamente mona io che metto le clip molto probabilmente si molto probabilmente si lo lascia perdere senti l'opin stripelli ah guarda come si dita molto meglio l'axel mamma mia marone che razza cambio dal giorno alla notte quindi equinox no lasciamo che nessuno si metta a cantare quella cosa no ho detto equinox quindi che nessuno si metta a non so neanche a merda non so neanche di come ti stia parlando ma eh male male molto male questo richiede questo richiede no 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 oh madonna ti butti nella differenziata quindi ah no ok se ti madonna chissà no no cerco lel Gesù Cristo 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 digiti mega f Dio buono de dio Gesù Cristo aprietardi a petardi Stava piovendo fuori Mi sono talmente rotto il cazzo Questi Child Solid I bambini Sono rodato Spero a fare Troppe cose Un fucile stordente 20 di... No, 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 no Manco se ne paghi Perché chiedete tutti combustibile come cosa? No, ma cazzo Boh Ma hai mandato qualche squadra a cercare risorse con l'online Mi sto concentrando sempre più sui soldi Ah Perché ho bisogno di tanto dinero Però sì, è una grande bastardata di aver messo l'online non necessario ma quasi Cioè non te lo diranno mai in faccia che è necessario però lo è Effettivamente Cioè non ti lo diranno No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Oh eccola Attenzione Oh shit Il trollone finale Oh shit Oh shit Oh shit Alyskir No No Non E Il Il E poi da un'altra cosa, perchè la mia luce è sempre così alta? Si sente così alta? Io sento pure il mio eco, a questo punto è sciare Beh, dopo tutto si sa che è sempre tutto luce La... Please select a mission Please select a drop point Eh, non è... Allora... Cucile stordente Cucile... Precisamente stordente E... E pistola addormentata Comunque... Eh... Io mi ricordo pezzi sempre piano piano Ma mi pare... Che... Per avere il wormhole... Deve avere uno... Specialista di qualcosa Boh No Probabilmente... Lo dovrò... Imbattire No Oddio... Non ce la posso fare F Dov'è riuscire ad utilizzare quella host orribile? Per farne una ancora più orribile? Per farne una ancora più orribile? Sì Il senso... Che meraviglia Che meraviglia Cioè... Questo è... Questo è un genio Un genius Questo non me la ricordo davvero Ah vabbè Questo è banale Questo è stupidissimo Che pari Non mi piace quando è banale così Non va bene Non mi piace quando è banale così Non va bene Che non ferirvi lo so Sono già due fortissimi episodi Tra virgolette che me lo dici Dai Featuring the school face proprio No perchè qua non c'è quello stronzo Sculo face Sculo face Ci sarà... No perchè... Volevo... Volevo tornare a pezzi Intanto... Mi imbraccio in meno Ciò ce l'ho... Carca puttana Ci sarà... Ehm... Un pezzo proprio di exciting gameplay Quando c'è sculo face Molto exciting Oh... Bene Oh yes No no... Letteralmente... Letteralmente exciting proprio Vabbè... Già ho detto troppo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Oddio c'è un canale che si chiama Timmy Turner's Grand Dead Madonna Sarebbe qua di Deltarun modificata Con gli strumenti di megalovania a quanto parlo Non è orecchiabile un cazzo Oh no non equipaggiare la La Il fucile è molto storbente Te shotgun No vabbè Ote assault rifle Assault rifle Lel Mo te pianto io gli dici bastardo Sarà brutto Io volevo iniziare un altro drift ma a quanto pare il gioco ha detto no Che mi ha fatto proprio della blue flame K Dio de dio Un'altra 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 BOSS BOSS enemy presence detected o 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 sono bambino qui molto bravo di questi stronzetti hanno un capoccio enorme e sono capace di non prendere in testa Esatto Perché sto facendo queste traiettorie di merda adesso? Eheheh Ma che tu sei stato? Turd, 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 ole Dammi la skin? Yes Lupen, lupen Ah no Tocca nitros oxide Nitrozo Nitrozo Ah madonna de dio Bono de dio Eh si, tutti poi lo chiamano oxide, però sti cazzo lo chiamano oxide Ma non effetterebbe una merda Lel 23 Ma andate a cagare 23 aiuto Con un balance Io lo chiamo ossido di nitrogeno No aspetta qui Esattamente Non so se la traduzione è corre Questo è tutto il bono successivo pure Di domani Such is life Such is life Mi spiace Problematico Con un packratch L'avevo tutto Prima che mi si corrompesse i dati Perché era un balance Oh hell E Devo proporre a Siva Gunner di fare qualcosa sul Ratchet Non ho no Che pensi Che pensi Il Un'si 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 Maron Dat was Gloss e anche dell'Uno Questa era la battaglia la fase della navetta su orbita di Drek dove distruggire i cannoni Oh, si è caduto ce ne sono tantissime che sono usate per l'Uno ci abbiamo riflettuto l'altra volta proprio tante tante so che il 3 era un riciclo di tracce questa per esempio cosa ti ricordo questa si so che sono sia al basso yes io già me ne so scordate forse questa forse è questa decisamente che stava all'arena di distruzione totale yes no non è Aranos la seconda la seconda aspetta Aranos Ratchet Escape ha ragione lui quella dove si trovi alla fine quando scappi dalla prigione questa è questa è questa è fidatevi no quella no no quella è la prigione quella è l'accusa ah e ho capito quale dici però quella eh quella è nell'arena del 2 effetto no nell'arena del 3 oddio aspetta dopo appena abbiamo finito quale la cerco tra l'altro sto tizio non poteva fare una playlist che era più comodo tipo no dupalle sta buono qui tipo devo fare una ricerchina rapida hai provato a lanciarti in missione in una zona con allerta alta tra le altre cose? no assolutamente no si distruggono l'elicottero subito eh 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 chi si bella bella beh per carità qualche volta se tipo allerta media puoi atterrare però poi l'elicottero viene distrutto anyway però ti fai atterrare però dici io sono stronzo e me la faccio stealth stealth 100% esattamente Maron ahhh un secondo solo Allora, tecnicamente mancano 20 minuti circa E quella è pure sull'arena mi sembra Esatto, esatto No, aspetta, era il percorso di morte però dell'arena No L'arena proprio Esatto, quella lì Questa Ovvero Quello è un capolavoro Quello è spettacolare Però l'ho usato pure nel trailer del vecchissimo progetto online Tanto era bello Ti dà quel senso Uno ci provava a essere creativo poi Giustamente I server laggavano come lo schifo E non c'è punto Se io penso al giù io penso al sistema Felsin Che c'è una off bellissima Minchia, tutte quelle dello spazio sono belle in effetti Penso a Gorn Penso a Nuvola Ugris Nuvola Ugris Come no? Silver City può essere Overrated Come overrated? No vabbè sto scherzando Boldan Todano O Todano come cazzo è Quella Canal City Ye Tempo che finiamo sta gara La metto Ho messo la misura Ero avvicinata Ah io Piuttosto devo capire Se qualcuno di voi Ha gli archivi Che erano su Reject Galaxy Perché i bastardi Li hanno tolti E io non li ho scaricati in tempo I RAR I RAR delle Delle host Io ho solo quello del 2 E del 3 Gli altri Io ho quello del 2 Perché mi ricordo che scarica I Quando mi fai tentare Volevo sentirmi qualcosa E la prima cosa che pensai Quella host Voglio spararmi La host Del 2 Però solo quello Mi sa Oh ma ci sono Di questa del 3 Però eh Oh sei a quella parte Della storia Sei a quella parte Della storia Ok Ok Non ti dico niente Non ti dico niente Metto solo musica Oh magnifiche Questa Questa signore Non si vuol dire niente Come me Maddio Non lo so nemmeno io Oh 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 Ecco Cos'era quella del 2 Bella Oh hellie Quella pure da una nota Si riconosce Tabbora Totano Felsing Gorm Boldan Ce lo metto Arano 1 che adoro Yes Che però vale Per tutto Eh beh Ci sta Oddio Ora che ci penso Ho fatto un piccolo video Una volta Devo Devo metterlo sul gruppo Assolutamente Un piccolo memino E ora ora lo metto Oh hellie Oh hellie Oh hellie Madonna Deve avere le cuffie Della madonna E Viene fuori Il magic Ma una cover piano Di qua Ammesso che sia possibile Farla Allora Eppure questo What Lo metto il memino E' perché dovevo cercare il memino Ah è morta di nuovo la lobby C'è Mi sa che non mi ha dato neanche i soldi Perché non ho visto la schermata Oh Avrei una gara extra I guess Boh A me non l'hai detto Che sei quittato Loll K Senza IA Per cortesia Ok Ok Tu 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 Yes Tu 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 ma magari guarda ma oh cazzo quella ha fatto male fa male qui e fa male qui no non era così sarebbe da cercare di contattarlo e vedere se le mette su spotify perché veramente ci sta solo che tipo è morto non ha social social accounts bergeaud quindi boh il che è un peccato se if you ask me proprio te lo direi pure ma che bello c'è eccolo ti sei dato la risposta esatto esattamente più avanti vi verrà spiegato il perché però si è quello complimenti per l'intuito very good considerando che non mi fa fare un'altra bella che adoro porca miseria questo è il 2 iedil 2 iedil 2 iedil 2 iedil ma iedil il boss ah no iedil la inside inside armor si inside armor come cazzo si chiede eeeh dov'è questa è missione non posso metterlo in quarantena farai dopo iedil i mega dead porca puttana eh si no questa non è inside no ma cazzo si chiamava dai megacorp hq megacorp hq giusto megacorp hq oh cazzo devo avviare chiedo scusa a iedil it questo è underrated in effetti Di merda Esatto Twitch approva questo convenuto Però sì, c'è gente che ci ha perso un bel po' di tempo a cercare di capire qual era il quid La linea di sterzata, Mega F C'è gente che ci ha perso un sacco di tempo a capire che era il Kikongo il problema Eh sì Mi ricordo che c'era un tizio Mi pare si chiamasse Ganon o cose del genere Che ha criticato sta cosa Ma io dico, magari leggere di più Vero Maronna Descrivilo Con tutte le casse Di quale gioco Il 2 con tutte le casse Fammi Ah è un porco di warehouse qualcosa Smog Smog Benissimo Siamo d'accordo tutti Allora Perfetto Vabbè ora mi do Quella è una merda Mi faccio contenti Dai C'è un'epicità addosso Questa è un'epicità addosso Cosa sta nel 3 Sì sta nel 3 Che palla Beh c'è questa se vuoi anche Però non è del 3 E non è male secondo me Questa è del 1 E' vera E' aridia Sempre aridia Sempre aridia Sì Dimostrazione che un pianeta ha fatto bene Però le canzioni del primo Sono molto più Rilassate Esatto Anche a confronto Metropolis Metropolis Si dà un senso di calma Invece nel 3 E' più frenetica Il proprio L'idea che ci sia L'invasione In corso Eccetera Nonostante sia la stessa track Cioè Non poteva farsi un'orchestra E andare in giro per il mondo A suonare sta roba Invece che Invece che sparire Porca puttana Sarà uno dei traduttori buoni Tipo immagino No 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 Oh Eri dietro Ehm Più che altro Stavo a fare Cosa della drift Della Eccola Super derrapata Se no me lo scordo Finito il bonus Oh L'hai finito Allora sarà finita anche a me Sì quindi adesso Devo mettermi a controllare 940 persone Andiamoci a fare Il matchmaking E poi Me ne vado Eh sì Devi controllare tutti E mi sembra che ci sia un modo Per filtrare Le loro I filtri sono Tre tutte Le sei d'unità Per combattimento Eccetera Eccetera Abilità Contratti diretti Stato missione Medaglie Persuasione E stato di salute Allora non Allora non Non lo so Ti tocca andare Conoscere italiano Join 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 me link And I will make you face the greatest in call Oh Oh In italiano Come Motor language Si chiama tipo Giovanni Così così No si chiama Devil Badger Ed è Italiano K Via L'elettronico Ah beh Giusto Favelante Due lingue in croce E devi sapere Il chi congo Tra questi Bravo Eh Bravo Ma andate a cagare Ma andate a cagare Ste cazzo dei lobby Però Oddio Mi danno un fastidio quando quittano Solo perché non gli piace la pista Ste imbecilli E quest'altro Sette lingue No io c'ho ancora la selezione Ehi quante piste mi sono qua Sei Oh sono ricapitati quelli di poco fa Sta uscendo Iperstrata galattica Quando pari Sta uscendo via l'elettronico Si Però Ora vedrai che ho ragione Iperstrata galattica Qua dice Vediamo No ora dice Tempio tiger Vediamo Tempio tiger Il tempo che finisco De controllare Tutti saranno già morti Porca pittana Favelante La luce Ah ma non ho visto quanto ho farmato Vabbè Eccolo qua Interpetre ki kongo Tu Sei Mega Fottuto Tizio Quindi tu hai Novecento Novecento Madonna Non ti Io non ti invidio per niente Ma ho fatto tipo Secondarie sporaviche Al tempo Non ne ho fatte proprio tutte Tutte C'era Quattrocento Magari Tutto bene Non è che ho fatto solo le secondarie Io mi sono messo pure a raccogliere Tutta la gente Che trovavo Soldati che dico Oh Tu sei nice Tu sei molto nice Tu fai cagare Si Lel Tu sei un gladiatore Yes Sto partendo primo Interessante Sei lost Oh E sei un Merda Beh farò crashare tutti Allora Tani vingi a trofeo Dio Vuoi rinventrò Che è una di queste tessere Il Kikongo Eh Oh Lo snipe Disgraziato Ora Adesso che hai detto Kikongo tre volte Google te lo consiglierà Negli annunci Lel Eeeh Io cancello Google E vaffanculo Lemao No Che imbecile Potevo usare la maschera Nel Nell'erba Per andare più veloce Che spreco Dio Cristo Vaffanculo Germano Io non so immaginare Di quanto scenderanno Il Le unità Ma di un bel po' di livelli Se eri a Tipo Nove c'è Se eri a noi Ce lo eri Effettivamente Beh considera che Molti erano in sala d'attesa Ma non come posso Mettere a guardare adesso Perché Sarebbe la fine E beh Non so ancora arrivato a metà Mi si è chiuso il muro Mentre stavo passando L'ho flippato Ah ora rimani lì Aspetta ma non sei Emi tu? Sì Eh ti vedo dietro di me Ah Sì ho capito Allora Ah sto cazzo Di rng Vaffanculo Eh In effetti Potevo pure starne Nella Ma io ho colpito Qualcuno Con un'arma Piuttosto Boh E la vince E la vince per colpa dell'RNG Che non mi ha dato nulla, cazzo Quello è vero, però vabbè Sti cazzo Caparbiale 89 Oh, da me ancora c'era il bonus Cristo, credevo fosse l'ultima per me Vabbè, sti cazzi Tanto Io ho la banca d'Inghilterra Vabbè, devo andare a fare la farming parte 2 Quindi bel meme Esatto Oh, non sapevo che crunch Il giocatore di football Avesse il fango per terra Cap No Si è morto Eh, si Oh, si Mi stavo chiedendo perché questa persona non è capace di Non parla nessuna lingua Ecco Bello così Perché Quiet Vaffanculo Esatto Oh, ho salotto sa parlare italiano Penso se spedisco lui in quarantena No, Char sta andando a farmi lo farming Ah, quindi devo andare via, mi sto dicendo Yeah, purtroppo sì Va via Sparisci Creatura immonda Escape Vai su wipeout O qualcosa del genere No, oggi no Perché oggi no? Sono brutta versione Kuz no Non riesco CTR Questo Questo è molto segno Ah, a quanto pare Adesso sono Alla parte della lista Dove la gente non ha skill Bene Quindi cos'è? Parlano e basta E basta Dio E parlano e basta Basta Blasto Magnissimo E E Ultra Yes Come te Permetti Come, cosa conosce? non state citando gemlik e io sono triste ebbè perchè l'africano si chiama africans perchè l'italiano è una lingua meravigliosa no ti prego le iene pure lì oddio vuoi vedere che hanno preso ispirazione dagli osp c'è da sti nomi pure da metal gear lo che è successo quando uno dei antichi dev stream steve ve lo diceva che a volte mi è ispirato a metal gear altri giochi del genere anime altri vari produttori stessi cannibal roccia un capitano carfaggio cannibale la roccia il motorone è arrivato finalmente il motoron che c'è il motorone adesso? come c'è? il power up nuovo che ssss si ho capito bello quello ho boostato grazie alla mia rete è stato un mega boost è stato un mega boost non era chiaramente mia intenzione ovviamente non è la mia rete che bastarda quello è il problema è fuori di they cannot stress this esatto questa a ti 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 Sì, tirano l'anglia fino a un valo Sì, tirano l'anglia fino a un valo La parte con... Il punto stile cecchino, non lo voglio ricordare Che era spettacolare O quello che coinvolgeva il cecchino del tremin Oh, no, aspetta Coinvolgeva il cecchino Mi pare che dovevi uccidere i tizi I tizi sulle torri Era una cosa del genere E dovevi usare i fucili a flusso Credo di sì Non mi ricordo esattamente Non lo so Troppo Troppo Qui c'è nessuno Tifonde 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 Esatto Tifonde 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 non è male già si 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 eh si anche perché credo che non lo possa fare più adesso o perlomeno lo puoi fare ma come si arrivano dalle missioni quello si serio interessante non non ne sono assolutamente certo Turkmenistan proprio no perchè non capisco bello questo è anche underrated secondo me molto underrated non 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 K, I believe you. Mega F. Estonia, Russo, Francesco, Ingresa, Volta che si confonde da un traverso. E coglione! Che due cojones! Oh, ecco la quella che dicevo qua! Yes! Non posso riuscire a indicare nulla, ricordo l'oschio del bosso di Bazzi. Non me la ricordo ancora! Le Mao! Questo è un Mao! No! Mega F. Ah, non fa niente, non fa niente. Docks Area proprio! Questo potenzialmente è una delizia! No! 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 Sì, 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 sì Perché usano il cannone stordente e lo sciolgono praticamente Eh sì Madonna, ma se l'avessi saputo anni fa avrei distrutto il gioco, penso Per come OP quel cannonazzo Quando porti il cannone stordente a B5 Puoi fare in modo che faccia dei danni a multipli Se fai wiggle-wiggle con la levetta sinistra Basically Quella lì è la tecnica suprema E quindi No, contro i boss è assurdo La cosa divertente è che praticamente Quando sei sul treno di... Dove batti clank Succede che per colpa... Sì, esatto Succede che per colpa del movimento Quel danno ti viene fatto automaticamente senza che tu sposti la levetta Interessante Belli... Oh me sto avvicinando alla fine Oh 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 Ora senti il numerone eh Dovete vedere il nuovo tecnica di Bolt Farmi di recette clank Dovrete un modo per farmare Bolt nel giro di 40 minuti prendi tipo una roba tipo 200.000 bolt E' sempre quella di quarto Sì quella di quarto Però dovete vederla perchè è difficilissima E' tecnicissima Cioè devi fare proprio dei passaggi specifici per farlo funzionare Minchia Mi ricorda... Mi ricorda il setup di... Non so se hai visto Twin Sanity Il setup per schippare dal Lab 2 al Lab 4 Sì Quello pure di uno specifico che... Madonna Io ho pure provato a farla Mi è uscita una singola run buona con tutto che ho fatto cagare su... Cosa era su Rock Slide... Rock Slide Rumble E ho detto vabbè me la tengo 35 minuti vieni per sento Spettacolo Il record mondiale sai quale... Quante anzi Diciotto minuti che non voglio Quattordici l'hanno sceso Eh sì Trecento trentaquattro per cento Minchia un terzo della base praticamente Un terzo della base Madonna Quanti livelli sono scese le unità? Dicisento Nooo Burbica 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 Sì Messa Di partito uno mezzo a te Fondo eccolo qua E se non la fermi poi... Essendo... Una roba così Un altro... Comunque una cosa è certa Questa... Kojima ce l'aveva con i kikongesi sicuramente Minchia Che era a me Fai e fa così Sì Io direi pure con le persone... No no dai cazzo Perchè stai disimparando a giocare Su Che sbag... Cosa hai sbagliato Ti perso la galattica sto sbagliando Sto triggerando male Un adesso non va bene 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 Ehi No Black Bison l'analisi è completo che succede se metto o te lo stincere? puoi farlo? è la domanda perché non lo so me lo fa selezionare in teoria boh se qualcuno l'ha provato quando ti farei un altro salvataggio se ve lo sbattilo aspetta che cerco su youtube anzi cerco ocelot quarantine revolver ocelot revolver ocelot eh si più che terber le ho deselezionate se hai fatto un doppio select probabilmente esatto che trovo strano perché mi siano sfuggiti così eh si same vabbè ora metto una roba cambiamo genere proprio stanno piegando l'erba vittima di vieto di vieto a zara nice la VN eh yes yes la VN guarda io non lo so come hanno fatto ma hanno tirato fuori delle delle track magnifiche yes anche se la migliore secondo me è la sigla della prima VN quella non si batte c'ha c'ha certi bassi che sono devastanti madonna ma scusami chi è che sa le lyrics in giapponese dopo tutto la cover quest time stai 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 il vichingo non è vichingo esatto chi congo chi congo di caffè ecco mettiamola così eh sì perché le epidemie vanno a comando dopo tutto no scusami vabbè ci può stare perché c'è il tempo di incubazione ma perché mi cosa chirgizio è una lingua ma che cazzo se lo chiedono tutti meglio 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 non ci credo ma ma ieri e oggi riparavi capire che il loro elogio non è uscito per niente o sbaglio esatto allora questa è la opening della VN comunque della VN dell'uno c'è certi bassi africans diokans ecco mo che l'ha detto poi tipo dall'oggi al domani impari il ki congo con duolingo e rip senti qua che bassi non ci sei si era per qua dopo metto eh lo so dopo metto quella dell'occo riparo che fosse Amadeus può essere sì eh magari conoscevo che usciva quella battuta allora se non ho capito esatto se non ho capito male comunque mi sa che il super engine sta sostituendo l'orologio perché appare sempre negli ultimi posti quindi il loro cambiamento è stato praticamente sostituire l'ID dell'orologio con l'ID del super motore cioè sono abbastanza sicuro che sia quello perché veramente zero orologi ci sono stati ed è strano mi sa che il problema è che loro al momento non hanno controllo su sta cosa devo pensare esatto quindi ho tanti o nessuno uno nessuno e centomila soprattutto vediamo se mi ricordo bene che poi il super motorone tra l'altro si è scoperto che è inutile perché ti ammazza le riserve esatto quindi è così sin dal ctr originale comunque quindi è un meno si è il blue fire è il blue fire zero quello della rampa di coso di immersione praticamente si gli tier che ho inventato io zero è praticamente quando non ti da un cazzo uno è no aspetta io dico zero perché su immersione non ti da manco la velocità del del blue fire quello si allora il non blue fire il blue fire basso e il blue fire giusto il non blue fire si è il sacred fire mascherato con la tinta blu punto c'è uno schifo yes esatto cazzo guarda non mi ricordo dove era perché un un amico speedrunner mi ha fatto vedere un po' di steinsgate 1 come vn c'era un pezzo in cui mi pare puri su forse dice non penserei che sono una di quelle camgirl non è vero cioè un spettacolo detto così off context non ha senso però c'era un context che non me ricordo io lol esatto who the fuck are you cosa l'art no però ti stai avvicinando no però ti stai avvicinando no però ti stai avvicinando nita è un po' difficile da dire nel mentre si si strozzano tipo ecco probabilmente è questo era essenzialmente inutile però ecco l'el madonna di dio fuck oh c'è questa io non so che l'avevo salvata ho scusato questa canzone è diverso diversi eh sì ovvero yes sì c'era se non erro è quel pezzo in cui si ripete quello che è successo o rischia di ripetersi quello che era successo insomma di parti PTSD oh 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 oddio mi sono ricordato adesso cosa mi pare che Fubuki era all'ospedale poi quando è successo bravo ecco però poi succede dopo quando ritornano nella linea di universo nella linea di universo esatto ma interessante sta cosa mi pare di capire che Zero è quella che ha omesso di più rispetto a quell'altro perché quella quella la primissima opera ha omesso ma non dettagli importanti invece Zero ha omesso parecchie cose questo mi pare di capire eh io sto andando avanti e si hanno messo anche dei dettagli sulla madre di Puriso oh o madonna no no ah ah fack Oh, io l'ho appena finito e questi hanno deciso di tornare Oh, bene Base Manager 2015 si chiama sto gioco adesso Altro che Football Manager Eh sì Madonna, ci vorrebbe qualcuno che si crea un account su Playgink E chiama la malattia Kikongo Kikongo ha ucciso Esatto E poi io metto pure la cosa E poi io metto pure la cosa Ecco Mass epidemic La malattia Kikongo Questa gomma era che non me la ricordo Vediamo Vediamo un po' Sto facendo cagare porca puttana Perché sto facendo così schifo? Bella domanda Sì, però ti sei perso il pezzo forte Aspetta Sì, esatto Fai gli switcherun Asco Si ripetono Però questa mi sembra che è modulare Ovvero che cambia nel corso del... Non riesco a riconoscerle tutte What the fuck Vabbè questa sarà di roba Nintendo che non conosco Oddio no Quello era il flisto Aspetta dopo Dopo rimette il pezzo No, questa è una idea purtroppo Oddio Una serie di tweet Di Steve Che quello genera sempre un quotidiano Cosa ha postato? Orca puttana Orca puttana Oh fuck Basta Mega F Ridinzi minore armonio Madonna Salute Non ho capito un cazzo Quindi salute Guardi Ma la madonna Poverina De Dio No? Sì Dio Sì 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 Vabbè Mi sono anche un po' rotto le palle Il gioco era CTR Per cui Va bene Mega F Lo chiamavano Pit stop 25.600 Ho preso 13.000 soldini Soldini Autocontor Suspente Cos'è la roba che ho ritwittato io? Yes Patrick that's a pickle? Yes Proprio il big mood L'hai vista la picca che ho messo nel gruppo invece? Quella di out of context Mexico Ah questo è qui Così Così Quella sta facendo Proprio Proprio Prohibito L'uso del cellulare Sì 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 Significa Marco Ceros Cernos Dio è il motore Saludos Saludos amigos Sì 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 Mega F Sì Sì Se no L'exciting gameplay Dov'era La prima parte dell'exciting gameplay Sottolineiamo Guarda non è niente in confronto a quello che ti aspetta dopo O forse sì No vabbè questa è Questa è la peggiore Questa è la peggiore Mettiamola Inchia Dopo questa Oh questo sta in missione quindi Dopo devo rifarla Ehm Ehm Sì Sì E sento La sanità mentale che se ne va Oh Questa è un altro che sta in missione Maronna Io non mando più nessuno in missione Lemao I soldi miei pieni Per cazzi miei Ma lo sczero Ehm Ehm Questo Cazzo Inizio Per Sì Inizio D lleva Di Fuori Pi mountain Io non ho sonno, andrò a fare un giusto. Buonanotte, sen. Buonanotte, ma... ...ma questa andrata è una coligia bastarda di una generazione di bastardi. Yes. Io sono, viola, che c'è... ...coniocchi, grafica, stavia... ...miarra, tarra, tarra... ...ma questa musica... ...cosa sto sentendo, right now? Meme. Questo mi costerà 4.000 donne. Ma io stavo scherzando perché non mi conterò di no nonno di pranzo, mi so che sei così bravo oggi, non ti farò pure niente. Beh, ci proverà. Esatto. Mi piace, mi piace. Brutto coniglio bastardo. La coniglio bastardo. Brutto coniglio bastardo. ... ... ... ... Vieni fuori brutta poligio sfruttatore di bagna altrui. Mi ho sentito e ti costerà 4.000 dollari e 35 pelli. Ehi Enico Sei, che cosa stai tu? Rest in batteria proprio. Dio buono di Dio. No... Va finito? Che cosa devo fare ancora? Finito, finito! Eccolo. non lo so esatto esatto così a run perchè ci stava essos ah lo stacco con ctr final fantasy vip e out allora beh grazie al cazzo grazie al cazzo diglielo mi dispiace di averci messo 80 anni solamente per mettere in quarantina quarantina ma anche cinquantina ma porco dio stasera io sto male no io sto male non hai capito comunque il team trance suona veramente come un aspirapolvere cazzarola non si vuole sbagliato dai quanti morti per equidormia ha già i morti vergogna ma quindi i borderlands lo posso cancellare? lol per evitare è morto quello di classe chi ha risposto comunque io ho mandato un messaggio a doc qualche giorno fa a dire come sta? è morto? maronna mega f ma non è anche la vecchia che smette di parlare così a cazzo di cane c'era successo qualche cosa no? se secondo me è occupato di rl che ce possiamo fare ma poi poi scrive un messaggio che è diventato mano 2 minchia a me era successa una cosa del genere che ero proprio occupatissimo e per un bel po' lo dovuto lasciar perdere non so se non so se è il stesso caso suo chi può dirlo quando avevi smesso di cagarti un po' tutti per via di altre questioni vabbè potremmo 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 comrade comrade e così poi si attacca tutto fuori e ciò là bello pronto ma non ho mai eh persona 5 persona 5 proprio steins 0 è lungo steins 0 eh steins 0 ehm ma un culo mia z z z steins 0 gate e steins 0 elite elite vabbè quando arriva arriva non è stai vivendo in transgruppe ma non stai vivendo arriva eh io ho dovuto aspettare secoli per peccarmi alla cazzo di limited edition col poster per si proprio quello eccetto che non credo che la elite vabbè va eh buonanotte buonanotte stasera non è non è serata esatto basta con quell'affare il ptsd mi dà qualcosa di quando c'era il pc che randomicamente mi ha privato i pop up con immagini spaventose ah i trojan di una volta che non ti chiedevano soldi ma ti pusevano cagare addosso prodotti addio i tuoi file sono criptati ups 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 costruire deponia l'ho finito ctr ho appena farmato non mi va stasgate no ci non te la faccio che ci sarebbe la demo di catherine potrei farci qualcosa l'hai provato nier automata eh lo vorrei comprare ma non vi trovo ancora un prezzo buono si dico la demo l'hai provata ah la demo no eh ti consiglio quella se te la puoi scaricare catherine e catherine catherine jones proprio così a caso non nier non ti che vi l'hanno Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Gostissimi Vabbè però Però conta ci sarà ci sarà un pezzo proprio Molto molto struggente Dico solo questo Proprio struggente forte Da un lato struggente Da un lato struggente Struggente di coglioni però Sto dobbiamo mettere così Il tocco di Kojima E' quello che Questo strano Cosa? Perché ha laggato No stanno a dormire tutti Quindi non può parlare Il silenzio degli... Degli... Di un... Un... No... Non me ne... Volevo fare una battuta Sì Sai io un po' Ci ho pensato alla cosa della lingua Pensando alla... A quella missione dove per l'appunto entri dentro la casa del diavolo lì E ti ritrovi la gente che 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 c'ha gli auricolari dentro la gola Poi c'è il discorso Tutte le lingue Meno che l'inglese Roba strane Dico Che cazzo di cioia fa quella cosa? E che c'entrano le lingue? Poi questa cosa della quarantena Vedi tutti che che... Vedi che dentro la quarantena Vedi che ci hanno... Vedi che c'hanno... In effetti Quello delle lingue è un tema chiaro Quello sì Però... Piano piano tutti i nodi verranno al pettine Come si suol dire? Il problema... Il problema è che è fin troppo piano Quello sì Il tocco che girano le palle Quello è il tocco Che poi chi cazzo l'ha inventato? Esatto Chi l'ha menata sta parola Il tocco di Kojima? Che che mi ha tosto meme? Ah no lo so Devo cercare Direzione sbagliata Che cosa è che è così risposto? Sempre la video mi cazzo Che però è sicura Non ho capito Che cosakiye non può stare Perché le unità di ricerca si sono livellate da sole? Le unità di ricerca sono livellate da sole? Forse c'è stato un rearrangement del personale? Boh Ah, effettivamente c'era gente in sala d'attesa Infatti la sala d'attesa ora è vuota Sta facendo l'autoassegnazione lui, quindi? Oh no, c'era un infetto nella guardina però, cazzarola Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no Ora devo rifare Beh, col problema che c'è l'autoassegnazione però dovrei controllare alla fine di ogni missione Quello è... In che faccio la torta, sì Beh, ti dico, a un certo punto quella cosa Cioè, non dovrei più farla ma non ti dico il perché, chiaramente Ti dico solo che non dovrei torturarti i coglioni così Quello... Eh, una cura oppure un blocco, immagino Quello, quello... Yes Sì Sì, gli disegnati non possono farti fare una cosa del genere in eterno Poco non sicuro Ecco Io andrei di più a numero di missione perché mi ricordo più o meno quando inizia una certa fase, eccetera Missione principale sempre, non... Oh, side ops Quello, quello l'ho immaginato C'è sempre dopo una side ops Sì, vediamo Le robe tutto La roba tutto E poi sai quanti cazzo di carri armati estrae in quel modo Al volo proprio Uii Ah, questo mi ha fatto ricordare che devo rigiocare la missione numero 9 C'è lo specialista che era cibernetica che però non ho idea di dove cazzo si trova Quella missione è un disastro totale Eeeh Il supporto e... Com'era l'aria? Vabbè, faccio qui a spiegare che cazzo devi fare Devi fermare un po' di veicoli corattati che vogliono andare tutti in un punto È come fare una sorta di tower defense Devi stare in un punto e abbatterli tutti un po' alla volta Non so se mi spiego Che cazzo sarà finito quel pirla di mondo Per il giusto Le mongolo Le mongoloid A me serve il Kikongo Dov'è che lo stronzo che conosce il Kikongo? Chi è che ha fatto entrare quel Kongo? Porca puttana Il Kikongo Perché è un Kik nelle balle proprio Si è che si è che ha fatto entrare il Kikongo Tadù tattà Tadù tattà Tadù tattà Tadù tattà Curigento Tadù tattà Tadù tattà Tadù tattà Uffì Usi 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 Oh Direzione sbagliata Direzione sbagliata Turkmenistan Esatto Mamma butta la pasto Nel dio cane Poi una di la volta, poi un'altra volta Guardate, guardate 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 Ti come? Ah no, tutto è impremesso Restati, muori anche E anche tu Guardate 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 mi chiedo che utilità possa avere considerando che non c'è esattamente molto da parlare ma becchia la becchia Inizio a chiedermi se ricordo bene di quel tizio Yes Questo non dovrei chiedere, non sono arrivato a seguire i livelli di... di... direzione sbagliata direzione sbagliata dismemoratagia oh so io non riesco a farlo cioè, dislessia Dislessia fotosensibile. Soprattutto fotosensibile. Fotosintese. Clorofilia. Cristo. Diretti e rigira qualcuno, qualcuno si ricorda quello della scuola, diretti e rigira, Cristo. Cos'è una scuola? Certo. Lorenzo, 30 euro ne... Sarà suo fratello. X daubt. Ah, bene. Ho preso l'intera pioggia per questa merda. Ehi. Ehi. Il bello è che ho cercato di fare piano. Cazzo no. Anattempete. No, ma oggi non lo so cos'è. Oggi c'è proprio un... Un... Un big mood come il tizio... Come il tizio della foto di Out of Context Mexico proprio. Cazzo no. Ehi. 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 Ma... Quei... Quei punti eroismo a un certo punto fanno un dive. Madonna. Bene. Mi fa... Mi fa piacere. Guarda. Comunque manco io la più importante. Vabbè. Se gliene vuoi dare non è male. Però... Perché poi penso che non mi ricordo se ne riprendi con qualcosa. Ehi. Ehi. Il cozzo me ne sono. Mi sono rotto il cozzo. Incapacità di parlare. Io non lo so più. Salve. Ti sei che se ti do una bella coltellata? No, vero. Aiuto. Aiuto. Di penne. Tu parlisti congo? Io potrei pure aiutarti. Ma non so quanto... Il mio aiuto possa... Ehm... Che posso. Le dunun nel linguone. Ehm... 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 benissimo SECURITET chiacchierone dal tanto lo so che parli di kikongo io di puttana di kikongo ahahah 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 come cazzo fa come cazzo fa da face con gli acuti mannaggia la troia eeeh c'è te people ahieie brothers ietepe io tizio questo che tu sei incapace di vedere a un metro da... attenta a te... ora farlo... Spic! Oh, c'è un fascicolo, grazie! Molto gentile che è partito! Ora ti avresti col tempo! Io te pe... io te pe... Tu sei corazzato o stai...? No, non sei corazzato! La corazzo! Quanti cazzo di prigionieri ci stanno quindi? Ah, beh... Io... tu sei? Va bene! Ma c'è ancora il D-Dog come spalla? Aiutami! Oh, yes! Certo che c'è il D-Dog! Chi altro ci dovevo, scusa! Esiste solo una spalla ed è lui! Quiet uccide i nemici a random nel momento in cui vengo scoperto! Con tutto per... Non gli chiedo di coprirmi, però a lei mi copro lo stesso! Tanto è vero che sai, di tutti i nemici, lei si mette a uccidere quello che ho appena addormentato con il proiettile! È una tranquillante! Gli sparo il proiettile tranquillante, lo colpisco in testa, mezzo secondo dopo ci pensa pure lei a colpirlo in testa, vanificando lo sport! Allora, se non erro potevi modificare il behavior, eh? O quello o dargli un'arma... In un certo punto! Ah, ecco! Allora... L'arma tranquillante dargliela a costa un fottio Eh... E ricercarla a costa due fottio Cazzo! Quindi lo farò, però solo quando sarò benestante di gommapalla Gommapalla Fast, fast, fast... Quali sono i tuoi amici? Un tale dava la caccia al nostro cliente Un tale dava la caccia al nostro cliente Dami il tempo di leggere almeno, porco mio Aiuto, aiuto! Un chirurgo che probabilmente conosce il Kikongo Questi due SSL pazzo 11 Cazzarola Spera che anche quel tizio conosca il Kikongo Spera che anche quel tizio conosca il Kikongo Mh Oddio, c'è uno che ha scritto Zucco Kuz Zucco Kuzza, sì Il ragionier Kukuzza Ehm... 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 Ossida Ossida, ossida Ossidi di carbonio Non sparare al pallone Non sparare al pallone Io... Io... Io ti... 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 ti taglio la gola se ci provi Bene Ehm... Davvero devo fare un recupero Fulton Davvero devo fare un recupero Fulton per un... Un fottuto falchetto, qualcosa di demonio Un falco? Beh, hai dovuto farlo per di dog il Fulton Ma... Ah... Però... Ti ho un po' con il cagnetto Un po' con il... Un uccello Li... Tu dici ma non gelai l'ali Perché non voli per cazzi tua? Strunz Diglielo, diglielo Un fascicolo Yes Bello prendere TNT che non esistono, mannaggia la puttana Un TNT che non esistono Esatto Un fascicolo Gubb Au Mannaggia il Dio Neeeee Me tocca rifar tutto Da capo Mannaggia Dio Pfff Non stai particolarmente giusto io Che anche te Ma cosa provo a vedere se qualcuno c'ha qualche abilità buona? L'altro se sanno parlare tutti i t-com Ah Minchia che rng No, non lo so Sto dicendo così Non è che sia davvero tutto Oh Dico finché le cose stanno eh Chi di da camp? Camperone Camperone Certo, Dragon Emperor deve abbandonare la partita quando il primo ha già tagliato il traguardo E far crashare la lobby dopo, certo Oh, immona Lalalal Nooo Un enemy sniper no F*** Boss Get down Più Prima Cosa è il tuo jutro Imidica Stronzi zucco cuz guarda bentamente finale me sbatto il cazzo quella pianta non scurrerà i problemi di lingua non sarà facile x daubi tozeroth x daubi guarda che come non è facile eliminare un po' di spesso di cazzo guarda che quanto non è facile pianta grano e molesto e ti prena impiantarsi un po' io che non fa vediamo quindi a quanto mi sono arrivato 265.000 Cristo 250.000? 65 il che vuol dire che domani arriverò a 280.000 poco non identificato avevo ancora scosso quando ho sparato senti intributati nella bana esatto non mi prenderete mai vivo davvero è stato uno stronzo che è un piantagrane e basta minchia congedalo guarda io lo metto in quarantena qui siete pilchi congo pure tu basta così almeno impari una lingua nuova e poi se proprio vuoi fare a botte lingua franca proprio esatto mission complete boss compito spinta competente scusa g rado 1 nomen codice fox oh carino star fox scusa si va dal sado eroismo attuale 90.000 Bella quella E mi ferma La linea di partenza La gente che ha voglia di giocare Mi dicono Comunque la cosa paradossale è che poco fa Sono andato meglio a tour del crepuscolo Non avendolo toccato per sé Sì, scusse Sì, scusse Sì, scusse Sì 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 Il è Diciamo Sì 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 a quella qualità è tale e tale resta imo persi persi per sempre negli oscuri ha un frattere lo spazio del tempo le mao le mao le mao le mao non ti lancia no problem che minchia ti ringhi tu e sono le nostre supply drops i ringhi pure oh stai su andiamo con il pane da dove dai dai stai 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 Reinafrozzi Che c'era sto Fozzi? C'è un pezzo di base intero anche io Un terd Un terna lot Guarda quando lo stavo progettando secondo me ho detto Questa deve essere la parte fondamentale del gioco cazzo Proprio si sta divertendo con Gima Io che ho capito oggi fa 56 anni Un po' robabile Avevo visto una cosa su Indur Ma non so se dire se è vero 24 agosto 1900 Ah c'è Che era the same Lo stream di Airsoft Vediamo un po' Su Twitch devo pensare Yes Quaiette Shai si chiama qua Quaiette Per qualche motivo Quaietta Shai si Drawing che era the tame with Che era the tame Certo Merda Sono riuscito a ribaltare le tazze di DVD Shit Oh Robo SPR Ma perché ci sono dei fidget spin Nello schermo Lei non parla mai cazzarola Oh Shit Ok Ehm Ok No 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 Allora io credevo che lo facesse per il meme Perché non voleva farla sentire Non Lei Lei usa the speech in maniera legistima Ah Quindi perché non ha altre scelte Capisco Minchia Io ho sempre pensato che fosse una facciata Orca puttana No Madonna No sai perché Perché siccome il TTS si usa per Per i meme Ho detto Vabbè E invece no Oh Ho 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 Hildeoli analisi analisi complete let stranding la struttura open world ma per favore la struttura open world la struttura open in the politisso as opposed to this Grazie a tutti 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 Dio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bear No 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 100 ingrutti da 4 poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Grazie a tutti 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 Buongiorno 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 La Buongiorno Buongiorno chi? who the fuck? tu non c'eri qui un secondo fa, chittà allora allora tu resta per non poter vedere sempre ultimo vuoto al minimo se tu sai 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 ok questa è la DPS posso estrarla? yes posso estrarla ecstraction arrived at motor bar ma porco dio perchè ci fettiamo ci fettiamo a track una hurt propeller propeller ho ops ho appena distrutto la gara di qualcuno e non mi dispiace nemmeno un po' e dopo questa non tizia e dopo questa non tizia io tanto lo so che tu parli il ti congo io lo so mi sto facendo un paura non vive tra troci agonie e cose così non vive tra troci agonie e cose così Dio 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 la la e giustamente chi è dietro di me al secondo posto un cacacazzo con coco perchè mi sembra mi sembra corretto Dio boia entrance and head exitance I guess bello quando quittano perchè sono doppiati i due giri su una gara di tre giri Dio Oddio c'era un penta che stava rimontando poi è caduto ed è respawnato sette chilometri indietro madonna come sto godendo svegli svegliati 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 se un post dove posso entrare senza troppi rischi per app quella porta è chiusa qui c'è due sprense un po' gruppi da due poi eh non banno qua Numbers Il mio didoggo Spic Il vecchio è zitto E anche cosa sono necessario? Uccido tutti, che domanda Mi stermino, maledetti Dio Polo, Dario Dio licci Lisch una tracchia un giorno gratis questa è la piattaforma di chi mi possiede sarebbe infettabile se qualcuno ha distruggetto guarda, spugge Anonymous 2001, scritto proprio Anonymous così e c'è pure un uno in mezzo bello dove cazzo è finito quello strumento non so niente dove cazzo è passato non so niente ora è sceso di sotto ora sta risalando sopra ma che è questo spugge alto coste 4 turemb questa è anche uscita? no mi chiedo bene Andare sotto Undernit Cazzo 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 Oh no... MAI LEDE! Sei una delzio... Giurati il bene... Giurati il bene... Non bastardo... Dovete spiegare la testa... No, il silenziatore, cazzo! MA NO! MA... Vedete che siamo tutti messi bene qui... Tanto... Quindi adesso ho apporto pure il tizio con la becca S Bambi! Benissimo! Qua era un nazista... SS Sì! Allora... Non... 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 non è più essere, sì 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 ora il problema è che non tra l'izzardo non è indescrivibile ato fra monaco 94 ma non fa monaco di un angelo tu non l'hai visto tu hai visto solo i cagliotti ventali ma non non sono solo quella roba una roba dobbiamo tornare ho fatto oh ok tutte le casse distrutte goddammit bro bro sembra la strace ma che sei un commercialista il mercant of death non ce l'ha fatto head di il tuo informazione qui sei un poster un poster un poster un ero terzo prima un phantom pain proprio oh col super engine non puoi schiacciare la gente ma che due coglioni allora palma bella domanda ma bella sta porta una bella domanda credo ci fosse pure su metal gear 4 se non si baglio bello con tutto che mi è tirato la bomba quello l'ho superato bro bro skills oh il cecchino questo è cos'è il cecchino sni-pe-ri-no mani tu non mi hai visto Friday I'm in love di nuovo con passione quando arrivare di nuovo svilti i ghost ah questo trap potendo e schiacando faccio il conto delle bottiglie che ho accidentalmente rotto lo stand al tuo cosa è stata? un'esplosione che genio è nulla è nulla è nulla è nulla Tira piedi, e già sei cotto, quelli essere osso di mare, tolta lì, una vita, ai che scuola, sott. E' qui per lo scaro del mare, nullaio, nullaio. grazie questo è un contatto questo è un metodo adesso devo capire come cazzo devo fare per andare allo stesso assolutamente senza scappare di nuovo la... la weather ma molto weather esatto weather wet madonna poverina di dio common weather common weather ma cazzo ci entra lì dentro Cristo sdio sdio dios comunque si è invitato robo ma non non è spawnato quando parlo dios vedo 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 Oddio la villa, ora ho capito quale cazzo villa stai parlando, è venuto il flash Un bel app è una libreria, devo sperare che ci sia un fatto passaggio segreto e fattuale vorrei far sapere che se volete però farlo con una bella zona ok, ho trovato la strada la road quanto cazzo deve divino qua? la bottega del gusto qua la bottega del gusto a che posizione sto sul championship 676 e qui queste candele si riducono la loro fiamma se ne avvicino e la loro accenna non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace Grazie a tutti